Ben trovati all'Orlando Furiosa, amici di Prima Radio. Oggi è mercoledì 15 dicembre. Vi parlo ancora di sanità per raccontarvi quello che è successo all'ospedale di Partinico. Non è una trasmissione di accusa, ma è una trasmissione che si fa una domanda. E questa domanda io la rivolgo a voi che mi ascoltate perché potreste trovarvi in questa situazione. Una signora di 82 anni, in precarie condizioni di salute, che abita in una comunità, scende dal letto e cade. Può capitare a persone di una certa età e soprattutto in condizioni di salute fisica non ottimali. Dopo la caduta accusa un dolore al braccio. Allora giustamente le zelanti e operatrici sanitarie della comunità si preoccupano e chiamano il 118. Quindi accompagnano la signora in ospedale insieme ad un'operatrice della comunità. All'ospedale di Partinico fanno le triage e si rendono conto che il problema non è gravissimo, ma comunque necessita di una radiografia. Adaggiano la signora sul lettino ed inizia l'attesa. Dalle 13.30 circa, intorno alle 18.30, non avevano ancora fatto nulla. La signora sembra che ci fossero stati diversi casi di codice rosso. Intanto le operatrici della comunità avvisano il figlio che non poteva entrare in ospedale per via dell'emergenza Covid. E intanto la signora, 82enne, cardiopatica, in condizioni di salute non eccezionali ma comunque lucida, che sentiva il dolore, aspettava da 5 ore nel lettino il turno per la radiografia. E intanto la prima domanda che mi faccio è questa. Ma la radiografia si fa nei locali del pronto soccorso o in un altro reparto? Quindi la signora, una volta che doveva fare la radiografia, poteva essere accompagnata nel reparto dove si fanno le radiografie o doveva necessariamente aspettare tutti i codici rossi del pronto soccorso? Sicuramente qualcuno di voi starà pensando, beh, una signora di 82 anni che già non sta bene di suo, pazienza, se muore ha poca importanza. Non è così invece, credetemi che non è così, perché tutti abbiamo diritto a ricevere le cure necessarie. È chiaro, non a discapito di altri che stanno peggio di te, ma tutti abbiamo il diritto di essere curati quando c'è la possibilità. Comunque, come è finita la giornata della signora all'ospedale di Partinico, che intorno alle 20.30, anche su richiesta dei suoi familiari, è stata riaccompagnata in comunità senza che nessuno l'abbia mai visitata, dalle 13.30 alle 20.30. Il giorno dopo, la stessa signora è stata accompagnata in un'altra struttura ospedaliera di Partinico, la clinica Patti, e nel giro di 30 minuti è entrata. Le hanno fatto la radiografia e l'hanno riportata nella sua comunità. Il risultato? Il braccio era rotto. Quindi, probabilmente, qualche attenzione in più l'avrebbe meritata, perché la signora si lamentava perché aveva una frattura al braccio, e invece è rimasta ad aspettare dalle 13.30 alle 20.30 senza che nessuno la degnasse di uno sguardo. Ripeto ancora una volta, io non sto facendo nessuna accusa. Vi sto soltanto raccontando quello che è successo a questa signora, 82enne, e che potrebbe succedere ad ognuno di noi in ospedale. A Partinico, entrando dal pronto soccorso, è rimasta in attesa per circa sette ore ed è stata riportata a casa senza che nessuno le abbia fatto nulla. Il giorno dopo, la stessa signora è stata accompagnata presso la casa di cura Igea, meglio conosciuta come Clinica Patti, sempre a Partinico, dove è stata accolta con tanta amorevolezza. Viste le sue condizioni di salute, le è stata fatta la radiografia, che ha constatato una frattura al braccio. Quindi, un danno piuttosto serio alla sua età e nelle sue condizioni di salute. Mi chiedo soltanto se è corretto quello che è successo e vi ricordo che potrebbe succedere ad ognuno di voi. Quindi, se doveste trovarvi in queste condizioni, sappiate che in ospedale a Partinico potreste essere messi sul lettino in lunga e vigile attesa. Mentre, se andate in qualche altra struttura, in questo caso la Clinica Patti di Partinico, dove hanno fatto soltanto il loro dovere, sarete assistiti in modo adeguato al vostro bisogno. Io mi chiedo se è giusto e mi auguro che qualcuno si metta in contatto con la nostra redazione per dirmi che ho sbagliato a raccontare questo episodio di sanità, di sanità, presso l'ospedale di Partinico. E che poi comunque accetti il confronto con carta alla mano. E vi dico di più. Visto che noi siamo una radio completamente libera, se qualcuno di voi ha subito un'esperienza simile a quella che vi ho raccontato, può mettersi in contatto con la nostra redazione e mandare pure un vocale. Ed io lo renderò pubblico, sempre senza fare nessuna accusa, ma raccontando storie di vita. A tutela e nel rispetto, però, della dignità umana. È tutto per oggi. L'Orlando Furioso torna nelle prossime edizioni.